buongiorno sono alessandro imparato prego oggi vi presentiamo un immobile sito in san paolo siamo proprio nel cuore di san paolo in via alla metro l'appartamento sono 94 metri quadri con come vedete un bel terrazzo cosa che in zona ovviamente è molto rara e adesso vi presenteremo questo trilocale da ristrutturare ma con grande potenzialità anche perché internamente sono tutti quanti tramezzi quindi c'è ampia possibilità di modifica quella che avete appena visto attualmente adibita a camera da letto ma il salone che comunque è molto grande avendo anche il doppio accesso sia sul terrazzo che sul balcone della casa prego ria cucina il salone passando per l'ingresso disimpegno troviamo ripostiglio cucina abitabile anch'essa con accesso all'altro balcone andiamo nella zona notte abbiamo un bagno con finestra e due ampie camere matrimoniali come vedete la casa risulta essere molto luminosa anche perché è una bella triple esposizione e ha in tutti gli ambienti ampie finestre spero che l'immobile vi sia piaciuto per tutte quante le caratteristiche potete visitare il sito internet imparato case punto it dove troverete la descrizione ovviamente questo video e la galleria fotografia completa grazie mille arrivederci grazie mille grazie mille